Siamo sempre più vicini alla nuova data di lancio del più grande e più potente razzo al mondo SLS, Space Launch System, il nuovo razzo della NASA, con in cima la navicella spaziale Orion che partirà verso la Luna per la missione Artemis 1, il nuovo programma di esplorazione lunare che mira a riportare umani non solo in orbita intorno alla Luna ma anche sulla superficie della Luna dopo oltre mezzo secolo. Questa sarà la prima volta in cui una navicella spaziale per esseri umani partirà verso la Luna dai tempi delle missioni Apollo negli anni 70. La navicella è qui dentro, questo è il motore che la spingerà verso la Luna, questo è il secondo stadio, e questo è il resto del razzo che porterà tutta questa parte in orbita intorno alla Terra, poi questa andrà verso la Luna. Questa parte in cima serve per portare via la navicella se si rompe qualcosa e bisogna portare via su un'auto in salvo. Quindi questa torre serve solo per salvare gli astronauti in caso di bisogno ma appena arrivate nello spazio se ne va e dentro appunto c'è la navicella. Ora, SLS partirà se tutto va bene il 14 novembre verso le 6 di mattina ma vi racconto tutti i dettagli nel video di oggi insieme a cos'è cambiato, come mai non è ancora partito e quali sono le novità in vista di questo nuovo profilo missione che sarà un po' diverso rispetto a quello che avevamo visto precedentemente. Partiamo prima di tutto dalla domanda più ovvia. Perché questo razzo è ancora qui? Perché non è ancora partito? Visto che doveva partire a fine agosto, cosa lo trattiene qui? Beh, al di là dell'affetto di tutti quelli che ci hanno lavorato, in realtà i problemi sono stati più intorno al razzo che con il razzo in sé. Il primo tentativo non era andato a buon fine, a fine agosto, per via di un singolo sensore che indicava una temperatura sbagliata in uno dei motori. Questi sono motori chiamati RS-25, costruiti da un'azienda chiamata Aerojet, che erano gli stessi dello Space Shuttle. E quando dico gli stessi non intendo lo stesso tipo. No, no, letteralmente gli stessi. Quindi i Shuttle sono stati riportati a casa, avevano vari motori, tutti quelli che avevamo da parte, che sono già volati più e più volte nello spazio, sono stati ripresi, riamodernati, sistemati, in alcuni casi hanno aggiunto parti stampate in 3D, più avanzate, sono leggermente migliori sotto tanti aspetti rispetto a quelli passati. Comunque li abbiamo riamodernati, sistemati a modino e messi sotto questo nuovo razzo. E come dicevo, semplicemente uno dei sensori indicava che c'era un problema, che probabilmente non c'era. Da quello che abbiamo visto dopo, i motori stanno bene, semplicemente il problema era con un sensore che non funzionava bene. Dopo hanno risolto il problema, 3 settembre, nuovo attentativo. Ed è andato male per via di una perdita nel sistema di caricamento di idrogeno all'interno del razzo. Ora, questo razzo va tutta questa parte piena di idrogeno e ossigeno liquido. Quindi va a idrogeno liquido e ossigeno liquido, che vengono mischiati insieme, boom! Boom! Intendo soltanto energia verso il basso, ovviamente, non verso il lato che sarebbe terribile. Quindi, cosa non ha funzionato in questo caso? Beh, tutto il sistema, c'erano vari tubi, eccetera, che stanno caricando idrogeno all'interno del razzo, sono estremamente delicati. E una delle valvole aveva una perdita di idrogeno e sono arrivati tipo a quattro volte il livello limite. Quindi hanno bloccato tutto per sicurezza, hanno cercato di capire cosa non andava bene, hanno provato vari sistemi. E poi il nuovo sistema che hanno implementato ha funzionato e sembrava tutto a posto. Quindi, evviva! Quindi, saltato anche il secondo tentativo di lancio, ma, ehi, abbiamo risolto il problema, giusto? Sì, e poi è arrivato un uragano. E' uno dei più potenti, tra l'altro, dei ultimi anni, è un uragano chiamato Ian, che è passato attraverso tutta la costa della Florida e quindi hanno dovuto portare il razzo subito al sicuro, perché rischiava tanto. Una volta che è dentro, ci vuole un po' di tempo per tirarlo dentro, poi portarlo fuori, ma, visto che è già lì, hanno sistemato alcune cose. Quindi, per esempio, si erano viste delle piccolissime crepe che non sono particolarmente rischiose, che sono nella schiuma, tutta questa parte che in realtà è rossa nel razzo qui, è un po' più rame, ma in realtà nel razzo vero e proprio è un po' più rosso, è una schiuma che serve per termoisolare il materiale che c'è dentro. Cioè, l'idrogeno liquido e l'ossigeno liquido all'interno devono stare a temperature criogeniche molto, molto basse, e quindi quella schiuma esterna serve per mantenere la temperatura stabile. E c'erano delle piccole crepe da una parte e quindi le hanno sistemate. Quindi, cosa hanno fatto? Beh, prima di tutto hanno ricaricato le batterie di quello che è chiamato FTS, cioè Flight Termination System. Sistema per terminare brutalmente il volo. È un sistema di bombe all'interno del razzo che serve per far sì che, se il razzo divia dalla traiettoria e rischia di colpire qualcosa o andare in una direzione in cui può essere un pericolo per strutture o persone, viene fatto esplodere a mezz'aria. Quindi se c'è qualsiasi problema e non è nella rotta prefissata, boom! Questo è un sistema di emergenza, ovviamente, nessuno si augura di doverlo usare, ma deve avere le batterie cariche, altrimenti poi dopo non è sicuro lanciarlo se non puoi garantire che verrà fatto esplodere prima di colpire una struttura o delle persone. Quindi hanno ricaricato le batterie a quello, dopo hanno ricaricato anche le batterie a una serie di piccole missioni che andranno insieme a questa verso la Luna, che sono una decina di piccole missioni CubeSat e vari tipi di missioni che studieranno la Luna ed intorni che si trovano qui in questa zona, tutto intorno. Quindi quando la navicella inizia il suo viaggio verso la Luna, queste si staccano e se ne vanno insieme a lei, visto che comunque la velocità l'abbiamo ottenuta e è gratis. Quindi questo è quello che è stato fatto finora. La NASA ha detto che in realtà gli interventi sono stati minimali, non serviva molto e quindi sono abbastanza pronti per riprovare al primo tentativo possibile. Quale sarà? Allora, qui diventa un po' complesso. Le date possibili sono tra il 12 e il grosso modo 19 novembre. Idealmente tra il 12 e il 17, ma si può andare fino al 19. Ovviamente per ogni data cambia leggermente il profilo della missione. Per ogni periodo in base a dove si trova la Luna, quanto carburante serve per arrivarci, eccetera. Quindi per esempio, inizialmente la missione poteva essere fino a 42 giorni se fosse lanciata precedentemente. In questa configurazione, se parte nella nuova data, il 14 di novembre, dovrebbe essere di circa 25 giorni. Che comunque basta e avanza perché è una visione di test. Devono solo provare che il razzo e la navicela funzionano. Dentro è pieno di sensori per vedere come la navicela si comporta e come funziona quando è nelle vicinanze della Luna, se tutto funziona come previsto e torna a casa. Se questa missione è un successo, poi seguirà la missione Artemis 2 e poi Artemis 3, che sono quelle prossime con esseri umani. Quindi in questo caso, se si parte il 14, dovremo vedere una missione che arriverà a fare 25 giorni intorno alla Luna e il 9 dicembre dovrebbe rientrare sulla Terra. Quando è il 14? Alle 0, 6 e 04 di mattina. Quindi se questo viene confermato, in base a quando guardate questo video ovviamente, io sarò live da mezzanotte. Da mezzanotte tra la data del 13 e 14 novembre io sarò live per iniziare a seguire il lancio di Artemis 1. Sarà un lungo viaggio e lo so, le 6 di mattina del lunedì 14 novembre non è esattamente l'orario migliore per noi che viviamo da questa parte del mondo ma che vogliamo farci. Questo è. E quindi se volete mettetevi un promemoria, ricordatevi, 6 di mattina del 14 novembre. Segnatevelo già da tutte le parti perché questo sarà un lancio per cui volete essere lì perché sarà uno dei più importanti di questo decennio e sarà tipo nei libri di storia potenzialmente se continua il programma Artemis e ci porta di nuovo sulla Luna. Quindi un giorno potrete dire io c'ero quando è partita la prima missione. Altra cosa che volevo dirvi è che ci sono due date di backup che sono il 16 e il 19 novembre e gli orari in quel caso sono verso le 7-7.45 di mattina rispettivamente. Quindi vedremo come va questo primo tentativo di lancio. Potrebbero esserci altre cose che non vanno? Sì, è comunque una macchina incredibilmente complessa. Sono milioni di parti diverse che devono funzionare perfettamente. Quindi certo, speriamo di no. Ovviamente speriamo che tutto funzioni bene però è al suo debutto, è alle prime volte quindi ci sta che sia ancora in fase di definizione. Nel frattempo la NASA sta cercando di creare un nuovo contratto per la costruzione di almeno 20 altri razzi SLS a metà del prezzo a cui viene fatto al momento. Quindi 20 significa che avremo abbastanza per avere missioni fino ad almeno Artemis 9, Artemis 10 più una decina di altre missioni insieme per tipo costruire la base sulla superficie della Luna e la stazione in orbita lunare che è l'obiettivo di questo nuovo programma. Vedremo come sarà. Intanto io vi ringrazio per aver visto anche questo video un abbraccio fortissimo continuate ad essere meravigliosi come sempre e grazie come sempre del sostegno e di tutti i vostri commenti. Eccoci arrivati nella handcard giusto per ricordarvi che questa configurazione di SLS è temporanea la prossima avrà un nuovo secondo stadio molto più potente. Al momento ci si sta già lavorando la Boeing sta già costruendo i primi prototipi e questo secondo stadio è una via di mezzo tra qualcosa che già c'è. Cioè è una cosa un po' raffazzonata di emergenza. Il vero secondo stadio chiamato Exploration Upper Stage EUS debuterà con il prossimo e con il lancio dovrebbe essere dovrebbe debutare intorno ad Artemis 4 probabilmente sarà molto più potente e riuscirà a portare almeno una decina di tonnellate in più verso la Luna. Quindi sei sicuro sarà fantastico vederlo in futuro anche con missioni robotiche. L'altra cosa è con questa missione vedete c'è anche il simbolo della ESA debuta anche l'ESA nel programma spaziale umano per ritornare sulla Luna. È la prima volta che gli europei fanno parte di un programma spaziale con umani per tornare con umani sulla Luna. E niente è una cosa bellissima. Noi facciamo il modello di servizio della nave Cialo Orion e non vedo l'ora di vedere anche astronauti europei a bordo di queste missioni. Un abbraccio forte ci vediamo presto Ciao